Mi piace pensare al cicchetto come un terzo luogo, un luogo affascinante e rivoluzionario. Infatti abbiamo cercato di unire il bar al ristorante. Noi proponiamo dei taglieri che sono ormai diventati famosi in città per la selezione estrema che abbiamo cercato di fare. Noi compriamo da produttori locali e produttori nazionali. Le nostre stuzzicherie sono fredde e calde che seguono la stagionalità. L'estate proponiamo piatti più freschi ed inverno proponiamo piatti più caldi. Il giovedì abbiamo il coquillage. Noi cerchiamo di fare un plateau royal essendo gli unici ad asti a farlo. Abbiamo un accordo con un distributore della Normandia che ogni giovedì si fornisce diversi tipi di ostriche. Insomma il cicchetto non ti vende un prodotto ma ti arricchisce con esperienza. Infatti da noi puoi bere vino, mangiare qualcosa e incontrare qualcuno. Prozit!